Gli auguri per tutto l'amore per la comunità gay italiana Ci tenevo tantissimo Comunque le posso solo chiedere una cosettina? Comunque l'ha pagata la multa per la discriminazione nei confronti dei gay? Non ancora, perché? Eh no, glielo chiedo, voglio dire, guardi che è importante che la paga la multa Eh ma è importante che non la pago invece Eh ma no, lei deve pagarla, mi perdoni No, assolutamente Ci faccia questo bel regalino per il suo compleanno Certamente, però farò in modo di renderla felice, va bene? Eh ne sono molto felice Senta, me lo dà un bacetto? No, per carità non sono abituato Fa un bacetto, via, così Assolutamente, non sono assolutamente abituato ad avere questi rapporti E va bene, ma c'è sempre una prima volta E se vengo nel suo studio mi fa entrare? No, no, io... No, entrare sì, per carità, non c'è nessun problema Mi raccomando, eh Un bacetto Ed erano gli auguri della comunità gay Al professore avvocato Carlo Taormina